Da oggi 15 febbraio le imprese e professionisti potranno modificare, integrare e inviare il modello con i dati relativi all'anno di imposta 2022 che sono stati inseriti dall'Agenzia delle Entrate e che già da qualche giorno era possibile visualizzare e scaricare. Arriva infatti la dichiarazione IVA precompilata. Con la realizzazione della precompilata IVA l'Agenzia delle Entrate contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si legge nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate. Per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023. L'introduzione di questo nuovo servizio, afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, si legge ancora, è un supporto concreto che l'Agenzia mette a disposizione di una significativa platea del tessuto economico e produttivo in un'ottica di trasparenza e collaborazione. Un sistema fiscale più semplice e che funziona meglio. È un investimento non solo per il sistema paese ma anche per le prossime generazioni. È possibile dunque calcolare, pagare l'imposto, stampare l'F24 e ancora inviare una dichiarazione correttiva o integrativa attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, dove bisognerà accedere con le proprie credenziali nell'apposita sezione dedicata. I dati possono anche essere importati nei propri sistemi per metterli a confronto con quelli nei propri database. Per tutte le informazioni, si precisa ancora nel comunicato, sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti IVA precompilati disponibile sempre all'interno del portale. Il servizio si rivolge ad imprese e lavoratori autonomi che fanno parte di una precisa platea stabilita secondo i provvedimenti dell'8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. Per l'elaborazione della bozza della dichiarazione IVA vengono utilizzati i dati dei registri IVA precompilati, anche se non validati, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, la dichiarazione dell'anno precedente e le informazioni in anagrafe tributaria. Grazie a tutti.